Scratch non prevede la possibilità di creare funzioni o procedure ma dei blocchi personalizzati che alla fine non sono nient'altro che delle procedure. Purtroppo il supporto è abbastanza grezzo per creare queste cose. Vediamo comunque la teoria che ci sta dietro e come realizzare delle funzioni o procedure con Scratch. Iniziamo subito. Un altro elemento importante nella programmazione è la possibilità di creare funzioni e procedure che dentro Scratch prendono il nome di blocchi personalizzati. Scratch non ha un supporto molto flessibile per creare funzioni o procedure ci permette di creare dei blocchi che sono più simili a procedure che funzioni. Cosa cambia tra procedure e funzione? La procedure immaginate come un blocchetto che può eventualmente prendere dei parametri solido A e B e produce un certo risultato. Una funzione invece è un blocchio che può prendere eventualmente dei parametri quindi A e B ma restituisce in qualche modo un risultato. Per esempio posso passare A e B, questa fa delle operazioni magari di somma, mi restituisce la somma. Quando servono e a cosa servono? Servono per evitare ripetizioni di codice all'interno di un listato. Se voi avete un lungo programma e qui inserite del codice, magari immaginate un programma con centinaia o migliaia di righe, a un certo punto andate a creare delle istruzioni per stampare la data formattandola, per esempio mettendo giorno, mese e anno con due cifre. Queste istruzioni le ripetete più volte proprio copiandole all'interno del vostro lunghissimo listato. Succede che a un certo punto vi dicono guarda che la data non la voglio più con la barra ma la voglio col puntino, quindi voi prendete questo papiro, andate a cercare il punto in cui modificare questo codice, ne trovate uno, lo modificate, trovate il secondo e vi dimenticate il terzo perché è facile quando si fa scorrere del codice, magari addirittura su più fa, dimenticarsi un pezzo. Lo eseguite e il risultato è che non funziona come desiderate perché in alcuni casi vi stampa ancora la data con la barra. Allora, come fare per risolvere questa situazione? Posso definire una funzione o una procedura che raccoglie queste operazioni in un punto solo. Quindi avrò all'inizio una definizione di questa funzione che chiamo stampa data, di sotto gli si assegna un nome a funzione procedure per riconoscerla, questa stampa data potrà prendere o non prendere dei parametri e avrà qui il codice necessario per svolgere l'operazione che abbiamo definito. Poi ho tutto il mio codice e in vari punti posso andare a richiamare questa stampa data, per esempio la chiamo qui, la chiamo qui, la chiamo qui sotto. Nel momento in cui mi dicono no, il comportamento di questa funzione deve essere modificato e voglio la data invece con le barre e con i puntini, io vado a modificare solo qua. La modifica avviene quindi in un punto solo ed è più facile gestire e mantenere il codice. Un altro utilizzo che si fa delle funzioni è quello magari di semplificare un programma. Immaginate di aver definito un diagramma di flusso che poi volete tradurre in codice e quindi questo ha tutta una serie di cicli, di test che vengono svolti. Nel momento in cui andate a tradurre il vostro diagramma di flusso in un codice o nei blocchi di scratch vi accorgete che qui avete scritto una particolare funzione, per esempio verifica, codice fiscale della persona che non potete fare con un blocco singolo. Quindi questa cosa qua si traduce per esempio in una cinquantina di righe di codice, una cinquantina di blocchi. È chiaro che il risultato finale del vostro listato sarà un listato lunghissimo, pieno di codice che rispettasi questa struttura ma è abbastanza difficile da navigare, è difficile orientarsi. Allora si può fare in questo modo, utilizzo delle funzioni, delle procedure in corrispondenza dei blocchi e poi le definisco in un'altra parte. In questo modo ho sott'occhio il comportamento generale del mio programma che è questo qua e come fatto qui dentro lo trovo definito in varie funzioni che posso raccogliere da parte o per esempio dentro altri moduli. Questo è un utilizzo un po' più avanzato. Andiamo a vedere quindi come creare dei blocchi personalizzati di scratch che equivalgono a una procedura o a una funzione. Iniziamo col blocco più semplice, facciamo sotto la parte dei miei blocchi, crea un blocco, chiamiamolo disegna un poligono, metto un nome molto esteso, con. Qua possiamo aggiungere i parametri, per esempio li chiamo argomenti, quindi aggiungiamo un argomento, qui metto N, poi clicco aggiungere una scritta per proseguire nello scrivere, faccio N lati, virgola, lunghi, spazio, faccio aggiungere ancora un altro argomento, faccio M, aggiungere una scritta, passi. Ok, ho creato un blocco molto esteso, quasi parlante, quindi dice proprio quello che accadrà e che cosa vuole, due parametri, i lati e i passi. Do ok. Ecco qua il nostro blocco, questo non è il programma, è la definizione del blocco. Vedete che c'è sotto il dentino, qui andrò a scrivere il codice che mi serve per andare a realizzare quello che scrivo. Per realizzare un poligono possiamo prendere nella parte di controllo un ripeti, un blocco ripeti. Quante volte dovrò ripetere? N volte, quindi prendo la N e la trascino, vedete, la incollo qui, quindi avrò N ripetizioni. Per disegnare, abbiamo visto uno dei primi video, posso prendere Fai dieci passi e poi faccio ruota D, lo vado a incollare qua. I passi da fare lo troviamo qua, è il parametro M, lo metto qui, e la rotazione, come abbiamo visto anche l'altra volta, la devo calcolare facendo 360 gradi, quindi prendo il blocco verde della divisione, diviso N. Quindi questo è il mio blocco definito. Se vado nella sezione blocchi, vedete che è apparso anche il blocco che posso usare. Come faccio a usarlo? Adesso il programma è molto semplice, quindi lo useremo richiamandolo direttamente, potevo anche evitarmelo, è solo per dimostrarvi come fare per farlo. Aggiungiamo la sezione penna, quindi se non lo avete andate ad aggiungerlo nelle estensioni. Quando clicco sulla bandierina, allora facciamo pulisci, penna giù, in modo che siamo pronti a scrivere, richiamo il mio blocchetto e qua gli posso mettere dentro come desidero disegnare questo poligono. Facciamo 7 lati lunghi 100. Clicco sulla bandierina ed ecco che il nostro gatto disegna il poligono come impostato. Se volete potete renderlo interattivo, lascio voi questa parte. Potete creare un blocco senza parametri, questo è molto semplice. Facciamo un blocco chiamato saluta, faccio ok, lo troviamo qua. Vi facciamo dire semplicemente ciao, ok, trascino il blocco, ciao. Spostiamo questa parte qui per utilizzarlo. Sotto i miei blocchi trovo il blocco saluta, lo metto qua. Quindi quando clicco sulla bandierina il gatto dice ciao. Questa qui è una procedura che non ha parametri. Ha senso anche fare queste cose. Possiamo vedere anche come fare, metto tutto insieme in modo che potete provare tutte le varie funzioni. Possiamo vedere come creare una funzione che restituisce un risultato. Iniziamo creando il blocco. Il nome del blocco chiamiamo somma. Faccio spazio, aggiungo un argomento, faccio A. Aggiungo del testo, faccio con. Spazio, aggiungo un altro argomento, faccio B. Ok, quindi andremo a sommare. Purtroppo non c'è possibilità di restituire un risultato, quindi posso farlo creando una variabile. Quindi vado sotto variabili, creo una variabile, la chiamo risultato underscore somma. Ok, me la trovo qui dentro. Andiamo a definire adesso il nostro blocco somma. Lo troviamo qui nella parte centrale. Come facciamo per fare questa somma? Allora, abbiamo creato la variabile risultato somma. Quindi facciamo porta la variabile risultato somma A. Qui facciamo semplicemente la somma dei due numeri con il più, trascino la A e trascino il B. Vediamo come utilizzarla. Quindi prendo il blocco con la bandierina, vado a prendere il blocco somma, lo metto qui sotto. Mettiamoci due numeri, facciamo 10 e 5. Il risultato lo trovo nella variabile risultato somma. Quindi per farlo comparire farò dire sotto variabile ho risultato somma che trascino qui dentro. Lo eseguiamo e il gatto ovviamente dice 15. Purtroppo va gestito con una variabile esterna. Bene, per oggi è tutto. Quindi abbiamo visto anche questa parte su procedure e funzioni. Come avete visto è un po' ferraginoso l'approccio e ha qualche complicazione tipo il fatto che la funzione ritorna il suo valore in una variabile esterna. Quindi questa è un po' una pecca che ho riscontrato anche in Tankable e anche altri ambienti grafici di questo tipo. Speriamo che rimediano perché è un peccato. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!